Una vittoria che nasce dalla voglia di questa squadra di tornare nel calcio che conta. Ieri si è visto perché non è facile dopo andare avanti di due gol e poi essere rimontato magari si può rischiare di perdere la testa, invece questa squadra ha mantenuto sempre la concentrazione alta e poi ha prevalso secondo me il valore aggiunto di questo Rimini che ora è l'attacco. È stato veramente molto bello e anche importante per noi sentire il calore di quei 400 tifosi che sono venuti quindi è stato importante, ci hanno dato una carica in più. No, non me l'aspettavo anche perché ho visto che è stato rinnovato molto, quasi tutto però quando mi ha chiamato mi ha fatto molto piacere anche perché venivo da un infortunio piuttosto serio dell'anno scorso quindi ringrazio il Presidente per avermi dato un'ulteriore fiducia e spero che le cose ora vadano tutto bene. C'è differenza, nel senso che sappiamo che quest'anno dobbiamo andare in campo, sappiamo che dobbiamo assolutamente vincere questo campionato, magari l'anno scorso era una squadra più giovane rispetto a quest'anno, quest'anno molti sono esperti di categoria ben oltre la Serie D quindi sappiamo e ripeto che dobbiamo scendere in campo ogni volta sia in casa che fuori casa e ottenere il massimo. Sarà una partita da stare lì concentrato sul pezzo per tutti i 90 minuti e noi dobbiamo continuare così, siamo felici di quello che stiamo facendo e bisogna continuare su questa strada.